Siamo qui con Del Precision M come Milano 4600, l'abbiamo girato sotto sopra come penso sia facile intuire dall'immagine che vedete. Procediamo quindi adesso rapidamente a mostrarvi come si procede con la manutenzione standard della macchina in questione. Vi invito sempre a chiedere al vostro negoziante se potete procedere, se ci sono problemi per esempio con la garanzia, una volta che vi siete accertati del suo comportamento, vi ricordo che noi non ci assumiamo alcun tipo di responsabilità in caso di danni, quindi capite bene quello che fate, noi vi indichiamo la via, però in caso di problemi ve li risolvete, non abbiamo tempo purtroppo da starci dietro. Questa è la macchina girata sotto sopra, abbiamo un paio di connessioni da tenere presenti, la connessione elettrica, dovete procedere con la sua rimozione, basta tirare con delicatezza, sempre è ovvio. Procediamo quindi con lo sganciare la batteria, vedete che in questo caso io procedo con il sollevare il pacco batteria, vedete che riesco a fare l'operazione anche utilizzando una sola mano. Il tutto quindi diventa assolutamente fattibile proprio perché il nostro pacco batteria può essere tranquillamente rimpiazzato senza problemi. Il tutto termina così, non c'è altro da mostrarvi, questo è il solito video di apertura del set inerente alla manutenzione, video ovviamente set, ne realizzeremo qualcuno così da mostrarvi appunto come si procede. Ora ho concluso, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion, li trovate linkati in fondo al video, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto presto da Giuseppe Ragozzino.